buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da rete informatica lavoro sono maria luce villa brand manager di rete informatica e del gruppo performa group mi sentite vedete correttamente c'è qualcuno in chat che mi scrive volentieri grazie per non avere problemi di audio è già successo qualche tempo fa ottimo grazie massimo perfetto allora possiamo andare avanti come ogni giovedì organizziamo questi webinar tecnici gratuiti dove tocchiamo differenti tematiche passiamo dai linguaggi di programmazione al cloud alla cyber security e a quelle un po più trasversali come quello di questa sera vedete già in linea valeria bozzolan ciao valerio ciao maria luce benvenuto a questa live e benvenuto quindi con valerio c'eravamo già visti durante il nostro evento evento annuale del tag of day che potete quindi il suo intervento lo potete rivedere tranquillamente anche nella sezione tag of day del nostro canale youtube questa sera cosa cosa vedremo insieme beh intanto ringrazio ancora tantissimo la rete informatica lavoro che ci avete ospitati come italian linux society che siamo sempre molto contenti di ficcare un po di software libero e lì e parlare di queste cose grazie ancora e parliamo di google analytics che questo è un talk un po provocatorio ma in realtà non è così aggressivo però questo è il tema della serata diciamo che vedendo un po la platea un po trasversale quindi ci sono anche addette ai lavori del marketing quindi anch'io sono abbastanza curiosa di vedere un po cosa tratterai va bene dai io lascio la parola a te mi hai detto che preferisci le domande verso la fine giusto quindi allora in realtà chiunque vuole inviare una domanda in chat se riesco a dare un occhio molto volentieri è un contributo molto interessante quindi grazie ancora anticipatamente chi fa domande subito nella chat e comunque in ogni caso al fondo lasceremo uno spazio per le altre discussioni va bene perfetto ricordo come sempre che anche questo webinar sarà caricato da domani mattina sempre sul nostro canale youtube anche con la presentazione di valeria ottimo dai lascio la parola a te buon webinar a tutti grazie mario luce allora eccoci qui 18 34 siamo qui davanti al nostro smartphone al nostro computer fisso non so cosa abbiamo per sentire parlare di google analytics e principalmente questo webinar è abbastanza indirizzato a curiosi persone soprattutto persone legate al web certamente ma ha soprattutto anche persone che lavorano un po sulla parte meta quindi senso comunicazione tutte le parti web design anche anche la parte di tutte le persone che si interfacciano nella nel miglioramento della della gestione delle statistiche o della di un sito web insomma 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 tutte abbiamo sentito parlare di google analytics e non c'è davvero bisogno che citi insomma gli sviluppatori web design e tutte le persone che hanno a che fare junior o senior che hanno a che fare con con il web che hanno sentito parlare di questa cosa e che si chiedono bene parleremo di tracciamento di protezione dei dati di privacy e parleremo di matomo e la risposta è sì cercheremo di approfondire tutte queste cose e lo faremo comunque con una licenza libera quindi questo video sarà rilasciato dalla dai gentilissimi direte informatica lavoro con una licenza compatibile con wikipedia e quindi potremmo anche riascoltarci quindi partiamo subito dicendo da dove sono spuntato sono il direttore volontario dell'italian linux society che è un'associazione di volontariato che si occupa di promozione del software libero e del software che rispetta le vostre e le nostre libertà digitali e mi piace moltissimo contribuire ai progetti wikimedia wikipedia eccetera e anche ad open street map che per chi non la conoscesse è un progetto bellissimo per la creazione di una mappa globale collaborativa che non appartenga a una società oltrooceano ma appartenga all'umanità nella vita reale e invece sono sviluppatore di software libero lavoro per una software house in piemonte e sono un sistemista linux su ambienti nu linux e come come molti qua dentro perché vedo già qualcuno che conosco sono un membro della free software foundation e della free software foundation europe e di alcune piccole associazioni border radio di torino e informazioni punto wiki che si occupa di promozione appunto di cultura libera quindi mi piace molto software libero e contenuto libero questo è per dire perché lo dico semplicemente perché appunto non sono un investitore di matomo non sono uno che ha speculazioni di qualche tipo su questa cosa sono semplicemente una persona che ama le libertà digitali e la protezione dei dati ed è quello di cui stiamo per addentrarci adesso siccome siamo un pubblico abbastanza variegato questa sera partiamo dal principio nella vita reale ci siamo mai chiesti come facciamo le statistiche nel senso abbiamo magari un piccolo evento e la domanda è quanti sono i partecipanti di questo evento e quindi ci viene in mente magari di realizzare questa questa implementazione statistica con qualche oggetto magari molto informatico o magari no magari basta magari basta poco per risolvere certi problemi magari bastano tipo un oggetto che clicchi e ti conta le persone che entrano senza mettere per forza telecamere di visione computerizzata che ti riconoscano il volto all'altezza eccetera questo è solo per entrare un po nel mood della serata quindi cerchiamo di risolvere problemi al minimo del costo dei dati dell'utenza e chiaramente mi direte non è che si applica a tutto perché se sto lì a contare le persone davanti a uno stadio per sapere quante persone sono entrate mi salutate però io potrei dire che in realtà in alcuni stati fanno così cioè si mettono in in tot centinaia di persone agli ingressi e li contano e poi li sommano a fine serata quindi non è così stupida questa cosa comunque di minimizzare il proprio impatto tecnologico con soluzioni apparentemente stupide perché lo fanno e e addentriamoci perché chiaramente mi direte sì ma le visite uniche come le conto perché magari entra uno nello stadio esce una persona e poi rientra e della stessa persona e io voglio sapere le visite le visite uniche e di nuovo quello che chiedo come esercizio mentale di questa sera e proviamo tutti a immaginare un oggetto tecnologico o magari non che sia in grado di risolvere questo problema al minimo del del costo sui dati delle utenze ricevuti dagli organizzatori e potrei dirvi stampate un braccialetto che ne so è un braccialetto con un numero come se foste in un parco di divertimenti entra la gente gli date il braccialetto entra si fa l'evento se ne esce va in bagno rientra e sapete che non è un utente nuovo è un utente che a cui avete già dato il benvenuto e l'avete già acconto questo è il modo della serata e ci permette anche di capire anche altri discorsi più tardi questo lo faccio anche perché abbastanza io capisco che per alcuni sia un po noioso mai realtà spero di renderlo un po divertente perché anche da queste semplicissime implementazioni è possibile fare errori abbastanza gravi dal punto di vista della privacy perché uno dice ah figo do un braccialetto a tutti i partecipanti e ci metto un codice poi l'evento dopo ah sì figo do un braccialetto a tutti i partecipanti ci metto sopra nome cognome data rinascita codice fiscale altezza e preferenze sessuali ecco questa non è una cosa geniale perché non insomma è da un'idea che sembrava apparentemente di impatto minimo e si è creato un mostro cioè non posso andare in giro con tutti i miei dati sul polso visibile a tutti bisogna cercare di limitare appunto il proprio impatto spero che quindi mi farete quest'altra domanda sì ma vai avanti fammi vedere come come risolvi tutti i problemi del mondo con braccialetti e conta persone eccetera se io ti io facessi un evento e ho bisogno di sapere domani dalle anzi ieri dalle 18 12 alle 18 52 quanti erano quelli che sono entrati a vedere la partita di calcio e a questo punto non ti basta più nulla di tutto questo e ti serve per esempio un registro degli accessi quindi se sono una banca e voglio sapere chi entra e chi esce nel cavo io ho un registro degli accessi in cui segno data e ora nome firma e qui inizia a chiedere sempre più dati affinché siano poi raccoglibili per effettuare delle analisi successive perché magari una di queste persone poi scappa col malloppo quindi allora torni a quell'ora e cerchi di capire chi è l'ultima persona che è entrato e quella successiva probabilmente che non conoscevi forse è lui a quell'ora è avvenuta la fine non so per dire qui ci stiamo addentrando nel mood del web in cui questi apparentemente semplici e stupidi problemi e soluzioni sono state esattamente prese così come sono anche nel nel mondo digitale perché quando è nato il web in realtà era una cozzaia di informazioni e grezze cioè nel senso non era ed era fantastico era una pagina bianca testo nero link clicchi arrivi un'altra pagina bianca testo nero e non succede niente di particolare se non per il fatto che a un certo punto a un certo punto bisogna comprendere anche il funzionamento perché chiaramente quando è stato ideato il web si era in un centro di ricerca io ero al mio computer e dicevo voglio sapere le informazioni su sul progetto del mio collega allora digitavo l'indirizzo https due punti slash slash progetto del mio collega punto com e visitavo il suo computer che stava nell'altra stanza e quindi mi era chiaro che dal mio computer faccio una richiesta arrivo da una destinazione che fra l'altro è anche abbastanza comprensibile perché è il mio collega lo vedo e là è il suo computer che visito il suo web server e ottengo una risposta e da questa cosa che è piaciuta tantissimo siamo sappiamo tutti come come si è evoluto il web perché le pagine web non sono più una cozzaia di testi contengono anche altre risorse contengono immagini fogli di stile animazioni quindi io faccio una richiesta web a un sito che voglio quindi informazioni su wikipedia ottengo una risposta ma è incompleta perché quella risposta non mi dà le immagini le animazioni e qualsiasi altro tipo di risorsa aggiuntiva per completare la pagina e costruirmela e anche se un sito è molto semplice a occhio è ovvio per tutti che ci presenziamo davanti a una grande sequenza di sotto richieste perché ad esempio anche solo wikipedia nel 2005 tutte le immagini tutti i loghi sono tutte sotto richieste da effettuare dal vostro browser in background auspicabilmente dallo stesso sito perché se visito wikipedia mi aspetto che poi tutte le richieste successive siano di wikipedia no è questo un po il il dubbio che viene creato in noi perché in realtà sappiamo benissimo che non è così non è più così cioè il web adesso è veramente una una foresta di sotto richieste effettuate a un sacco di altra gente che non ci aspettavamo e adesso potrei dire un sito a caso prendendo il dizionario aprendolo alla a prendendo lanza punto it che è un sito qualsiasi italiano che conosciamo bene una insomma se uno vuole sapere una notizia spesso finisce su un sito del genere che potrei citare altri siti ma cito questo senza senza volere né bene né male però quando io visito questo sito visito tutta una serie di altri componenti che non vengono necessariamente neanche da dall'ansa quindi sto visitando non più ansa punto it ma sto visitando un sito che è generato da un server negli stati uniti di facebook poi un altro un'altra richiesta va a un altro server appartenente a una società negli stati uniti che magari è google per caricare tutte le sottorisorse che ansa punto it voleva dentro il sito magari voleva la mappa di google map magari voleva il tastino like di facebook magari voleva google analytics magari voleva incorporare un tweet di twitter ecco tutte queste cose sono semplici da fare cioè incorporarle è semplicissimo il problema è il costo da parte delle degli utenti che visitano cioè il loro browser quando visita questo sito inizia a impazzire perché poi non si ha il controllo una volta che si incorpora un componente di facebook o di google map o di qualsiasi altra risorsa esterna che mettiamo nel nostro sito non si ha il controllo di cosa ottimiamo in risposta può cambiare in qualsiasi momento tra l'altro e chiaramente qui gli sviluppatori e le sviluppatrici che sono in chat chiaramente sanno già benissimo come accorgersi di questa cosa aprite un sito a caso magari con firefox che è un pochino più o anche con chromium un browser basato su chromium come anche chrome per carità non consiglio chrome ma anche su chrome funziona aprite il vostro browser visitate un sito appunto come lanza.it e possibilmente adesso mi rivolgo alle persone sane di mente che hanno ancora un computer desktop o portati la casa e non le persone con uno smartphone che hanno solo smartphone perché purtroppo per comprendere attivamente il web purtroppo è necessario almeno una tastiera quindi mi rivolgo a tutte le persone che hanno una tastiera in questo momento davanti di premere f12 e si apre una cosa che non vi ho messo io nel computer cioè c'è già questa cosa c'è in tutte le versioni di firefox c'è in tutte le versioni anche di chromium e di chrome ed è la developer console cosa fa la developer console se io faccio un sito o se visito un sito mi aiuta a capire cosa sta succedendo sotto al cofano quindi in questo caso non so se riusciamo tutti a zoomare ma ho aperto ansa.it ripeto sito a caso potevo dire a qualsiasi altro sito e sto facendo 848 richieste per completare la composizione della pagina e fra le richieste vedo tutta una serie di domini che non c'entrano affatto con ansa.it e di cui non ho neanche avuto il tempo di dire no perché il fatto che poi mi chieda dopo vuoi rifiutare cookie vuoi rifiutare cose è troppo tardi cioè ormai l'ha fatto cioè non come fai a tornare indietro è come leccare il palo di un pullman cioè non puoi tornare indietro cioè ormai l'hai fatto e quindi e quindi dico e quindi dico ecco teniamo a mente questa cosa qua quello che questo è quello che succede nel web e ma cerchiamo di capire ancora un pezzettino tipo cosa cosa abbiamo detto fino adesso che se io entro in un evento e mi danno un braccialetto mi permette di cioè me lo porto appresso io affinché quando vado via al bagno e torno all'evento mi riconoscono di nuovo stessa cosa i cookie quando se per caso qui c'è qualcuno che voleva sapere come funzionava un cookie un cookie alla stesso modo io visito un sito quel sito mi dà un braccialetto con delle informazioni sopra che mi porto addosso e ogni volta che rivisito quel sito gli ridò quelle informazioni come se mi ripresentassi all'ingresso e gli dicesse guarda sono sono io ne hai già visto e loro sanno che ero quello di prima e non sono uno nuovo e quindi chiaramente tutti navigando accumuliamo un sacco di questi cookie nella nostra navigazione e a volte è normalissimo nel senso chiaramente se sono rifacciamo l'esempio della banca che è sempre chiaro io sono una banca arriva l'utente non so chi sia sia autentica e da quel momento allora gli do un cookie per capire che è veramente l'utente che mi aspettavo allora li va in bagno se ne va va a dormire torno al giorno dopo e grazie a quel cookie so che è sempre la stessa persona che era autenticata prima e quindi non devo ogni secondo farlo riautenticare perché so già chi è grazie al fatto che me l'ha detto lui grazie al suo cookie che si portava addosso quindi mi piace fare un po questo paragone fra i braccialetti e i cookie che sono molto chiaro cioè cookie non è un mostro è una roba che ti porti addosso è una roba che ti porti sul tuo browser è una roba che puoi togliere come un braccialetto è una roba che contiene dei dati e dei dati su di te che che ha deciso qualcun altro e che tu a volte neanche te ne accorgi perché magari lo porti tutto il giorno e non te ne accorgi non so come dirlo però puoi svuotare i cookie sul computer e in tutti i tuoi siti più o meno non sanno più chi sei questa è una cosa che in teoria andrebbe fatta ogni giorno cioè quando io ho smesso di usare il computer una cosa molto sana secondo me è mettere l'impostazione svuota i cookie all'uscita questo è molto utile perché per esempio se sono in google quanti di noi sono sempre loggati in google anche solo per cercare il ristorante più vicino a noi però essendo sempre autenticati in un motore di ricerca cercando il ristorante più vicino a noi quel motore di ricerca sa dove andiamo quando ci svegliamo e cosa facciamo in tutta la nostra vita e forse non lo desideravamo non ce n'è bisogno e loggandoci poi quando ne abbiamo bisogno per quindi consiglio questa cosa qua e qui arriviamo ai cookie di terze parti perché in realtà noi appunto visitiamo il sito numero uno per esempio lanza punto it poi visitiamo il sito numero due dopo cinque minuti ci stufiamo andiamo su tik tok che ne so poi il sito numero tre andiamo sulla stampa il sito numero quattro andiamo su repubblica e ce ne andiamo peccato che tutti questi quattro siti adesso non è così è non è così però è solo un esempio tutti questi quattro siti supponiamo che avessero nella home page magari una mappina di google map perché non togliere un tastino mi piace di facebook e perché non togliere un bel monitoraggio con google analytics ed ecco che capita che se cambiamo il punto di vista e diventiamo un attimo facebook o google o google o una di queste società che hanno un pezzetto di loro in ogni sito riusciamo a capire i salti di sito in sito delle singole persone mentre il singolo sito dice ah ah beh mettiamo google analytics nel sito così mi dà le statistiche sì però se tutti lo fanno google analytics non dà le statistiche controlla i flussi globali della navigazione mondiale di ogni persona perché non se tutti lo fanno e praticamente tutti lo fanno uno può guardare le statistiche di adozione di questi strumenti sui primi mille siti al mondo ci sono molti report a tal proposito consiglio di cercarlo e farsi una propria idea della vastità di questo problema e di per sé io capisco che non ci sconvolga più di tanto no però in realtà dovrebbe perché c'è se io vado al bar e prendo un caffè poi guardo un panino me lo compro ed esco saluto pago anche magari non è che poi il tizio al bar alza la cornetta chiama una società negli stati uniti che gli aveva prodotto la mortadella e gli dice guarda è entrato un utente alto un metro e settantaquattro barba corta una macchina l'ho vista parcheggiata era un forone con sei porte e in questo momento appena preso appena guardato questo panino per 27 secondi poi ha guardato quest'altra la mortadella e ha deciso di comprare proprio questo poi improvvisamente ha pagato ha pagato fra l'altro con una carta di credito visa è uscito e ha salutato arrivederci e poi chiama un altro magari il fornitore che gli ha venduto il frigo al barista e dice salve signor fornitore che mi ha venduto il frigo è entrata appena una persona adesso che fra l'altro ha aperto il suo frigo guardato per 20 secondi il mio panino che è un altro fornitore mi ha venduto però non glielo dico questa cosa qua era alto un metro e settimpe insomma fa così e fa 843 chiamate non ha molto senso ce ne rendiamo conto che nel mondo reale questa cosa non ha senso arriviamo al punto in cui nel mondo reale non è che tracciamo a questo livello le persone volutamente cioè se ce ne accorgiamo facciamo un passo indietro diciamo ah no scusa non mi ero accorto che avevo messo questo sistema che chiamando il mio fornitore del frigo dicendogli tutte le cose della mia attività ti creasse un problema insomma il bar non compromette la confidenzialità professionale della sua attività mentre ogni sito web perché deve farlo cioè questa è la cosa che dovrebbe un po farci riflettere oggi anche perché le informazioni raccoglibili sul web adesso sappiamo l'indirizzo ip il mio browser la mia lingua però in realtà ci sono ovviamente altre informazioni tipo se io inserisco uno strumento come google analytics nel mio sito cioè è progettato per capire anche dove il mio interesse ricade di più quindi veramente se io ho preferito cliccare su questo link piuttosto che quest'altro quanto sono stato su questa sezione del sito è in grado se google volesse di catturare tutta una serie di altri parametri che appunto non raccoglie non succede assolutamente ma per esempio se zoomate se digitate un tasto se insomma può fare tutto quello che può leggere qualsiasi sito se controlli il sito però è un po un eccesso di diciamo cioè non è che ci paga ci pagano per fare questa cosa cioè non è che siamo costretti con un fucile puntato a regalare questi dati a società oltreoceano e magari c'è una soluzione ecco anche anche se non succedesse perché ripeto fingiamo che non succeda tutto questo ma è l'ipotesi che succeda in qualsiasi momento è assolutamente concreta e quindi anche in italia attivisti attivisti sulla parte della protezione dei dati hanno creato un progetto che si chiama monitor a pa che consiglio veramente di andare ad esplorare adesso questo link ve lo metto anche ve lo metto anche in chat nella descrizione del video è un legato tecnico sulla su un'analisi dei rischi effettivi e potenziali nell'adozione di strumenti come google analytics google map google fonts facebook pixel facebook like twitter embed tutte queste piccole cose che infiliamo nel nostro sito e che siti come il sito del comune del mio comune di riferimento oppure del siti pubblici insomma roba legata alla pubblica amministrazione le scuole cioè non dovremmo per forza regalare i dati di ogni minorenne che visita il sito a una società oltreoceano solo per sapere quante visite abbiamo ricevuto oggi ecco questo è è la questione e beh che fare allora in realtà non è così complicato nel senso la regola 1 chiaramente non incorporare qualsiasi cosa c'è senso capisco che è bellissimo vedere un sito che ci propone incorpora il video di youtube o incorpora il tweet o infila google analytics il mio sito ma cerchiamo di semplicemente non farlo nel senso se possibile se chiediamo il permesso all'autore e scarichiamo questo contenuto il locale che a volte non è neanche necessario nel senso a volte sono immagini nostre e quindi facciamo sì che siano in un posto nostro oppure sono dei font magari per il sito vogliamo il sito tutto bello in corsivo e allora non facciamo sì che ogni visitatore per scaricare questo font va negli Stati Uniti cioè se costa circa una mezz'oretta di lavoro di uno sviluppatore ma lo prendi lo scarichi e lo metti sul sito così le persone che visitano ciccio.it scaricano poi il font da ciccio.it e rimane tutto locale e nessun dato viene mandato a terzo questo fra l'altro è legale perché tutti i google font sono comunque in licenza libera il problema è solo che non andarli per forza a scaricare da loro negli Stati Uniti la seconda soluzione è adottare software libero nel senso che chiaramente non c'è magari per alcuni la possibilità di togliere google analytics perché il mio lavoro è la comunicazione voglio sapere il picco di visite e tutte le metriche disponibili quindi il secondo punto della serata è adottiamo software libero per esempio Matomo Matomo è un fantastico software di raccolta delle metriche di un sito web o anche di altre componenti anche un'applicazione oppure un applicativo desktop è capace di fare molte cose molto utili e soprattutto permette di fare una cosa molto bella cioè se uno è pigro vabbè si rifà ai loro servizi e allora ti danno un accesso tu non fai niente e lo usi come se fosse google analytics cioè prendi il loro codice che ti danno loro lo metti nel tuo sito e tutti i tuoi visitatori invece che visitare google analytics visitano matomo.com insomma è comunque meglio perché l'utente finalmente non esegue sul suo computer codice che decide google ed è proprietario e non puoi analizzare legalmente ma esegue codice di questo software libero che sai perfettamente cosa fa per raccogliere i dati raccoglie solo quello che deve fare e poi lo manda in modo trasparente a Matomo questo è anche una cosa importante oppure se vuoi fare proprio le cose splendidamente arrivi lì e chiedi al tuo reparto tecnico Sam, tiratemi su una Matomo ti fai un tuo indirizzo matomo.miasocietà.com e allora i visitatori del tuo sito invece che visitare un sito esterno visitano sempre la tua infrastruttura i dati rimangono localmente senza cederli a nessuno e questo è il concetto di 100% data ownership ed è una gran cosa soprattutto se raccoglie molti dati come fa un user tracker sul web faccio una piccola parentesi la licenza di Matomo è la GNU General Public License che come sapete permette a chiunque di scaricarselo gratuitamente liberamente se ne ottieni una copia ne puoi fare quello che vuoi te lo installi su uno sei mila server ne fai quello che vuoi a patto che se metti un tuo miglioramento di codice e poi dai questa roba a qualcuno poi lo rilasci come software libero quindi è per quello che l'amatomo ci tiene a far sì che rimanga software libero perché chi lo adotta aiuta poi a far crescere questo software quindi è un circolo virtuoso che approvo perché no e vedendolo chiaramente questa è la schermata che conoscono tutti se uno ha cercato un attimo sul suo motore di ricerca preferito DuckTagGo oppure Google che cosa usate se uno ha cercato Matomo esce fuori questa schermata forse non proprio questa sul Pippo Blog però insomma vede una plancia di lancio di tutto rispetto in cui si vede il risultato del proprio lavoro cioè io effettivamente posso abbandonare quasi con comodità proprio tolgo e metto questo tolgo Google Analytics e metto Matomo e ho praticamente le stesse funzionalità ho qualcosa di meno e qualcosa in più ma perché ovviamente non è una copia esatta ovviamente non è progettato per essere un'entità centrale che analizza tutti i siti del mondo cioè è uno strumento fatto per analizzare il vostro sito e tenere i dati solo solo per chi possiede quel sito e quindi a parte questa overview qua vi faccio vedere alcune informazioni molto utili tipo questa sono le statistiche di un piccolo sito che abbiamo curato come volontari che è il sito di Wikilobz Earth che è una una piccola diciamo che gara fotografica a chi fa foto più belle per Wikipedia riguardanti la natura è un concorso essendo un concorso appunto Wikipedia a un certo punto dell'anno mette un banner sopra con su scritto partecipa a questo concorso fotografico e se tu possiedi con il sito comunque ti fai un po' di paura perché ovviamente se Wikipedia ti linka improvvisamente il mondo ti visita perché la gente schiaccia e ti visita e quindi è interessante per esempio qua vedere ovviamente l'incrocio fra le visite ricevute dal giorno uno di questo banner e queste sono statistiche raccolte con Matomo ovviamente ripeto e la generazione della pagina che ovviamente ci si aspettava che dopo un picco di 16.000 visite 11.000 visite al giorno il server rallentasse perché sono troppe e invece vedete che la barra verde se uno ha le slide davanti continua a scendere perché comunque siamo riusciti a fare continua ottimizzazione del sito e ridurre le risorse visitate e alla fine non c'è nessuna correlazione fra l'aumento delle visite e il rallentamento del sito anzi si vede una cosa inversa perché abbiamo continuato a ottimizzare il sito questo poter fare queste analisi con Matomo ha uno sviluppatore web anche un back-end developer è molto utile oltre che ai front-end developer ovviamente e ovviamente ci sono tutta una serie di altre funzionalità molto pratiche come capire data una pagina le persone da dove arrivano e dove se ne vanno oppure ancora questo non ve lo faccio neanche vedere perché è troppo banale oppure ovviamente la mappa in tempo reale delle visite queste sono tutte piccole funzionalità che uno magari un po' prevenuto dice ma Matomo non avrà mai questa roba qui invece è di default installato semplice a distanza di un click e funziona perfettamente senza non un po' Matomo è una tecnologia PHP MySQL che è esattamente uguale a l'architettura di Wordpress esattamente uguale all'architettura di Joomla all'architettura di Drupal l'architettura di Wikipedia cioè le persone che sanno installarselo su una loro macchina sono tantissime quindi è veramente uno strumento che non insomma non ha nulla da non è pericoloso per la nostra salute ecco non ci fa venire la cirrosi epatica non come dire non vabbè faccio vedere anche ora questo passaggio questa è una raccolta del un incrocio fra i tipi di dispositivi e le azioni compiute sul sito tipo un click un altro questo ovviamente apparentemente se fossi prevenuto potrei dire che Matomo non supporta questa cosa perché effettivamente i visitatori hanno talmente tanti tipi di dispositivi device che devi essere molto strutturato per riuscire a fare una cosa del genere in cui aggreghi per tipo di dispositivo e invece funziona perfettamente anche questo strumento che tu abbia uno smart tv oppure un tablet ma Matomo è in grado di capire chi è il visitatore che arriva anche il tipo di browser anche questa è una funzionalità non banale non so chi di voi ha mai provato anni prima a realizzare da zero un sistema di statistiche dicevo ho provato una volta ma è veramente un casino incredibile perché la gente ti visita con i dispositivi più allucinanti ci manca solo lo schermo triangolare e abbiamo tutto un'altra cosa fatto questo è di un sito abbastanza popolato possiamo finalmente annunciare che Silverlight lo usano in quattro persone quindi se sono qua dentro chiedo a loro di uscire perché chiaramente Matomo permette di ispezionare anche le tecnologie presenti sul proprio browser e ovviamente vediamo che tutti supportano i cookie alcuni supportano altre cose eccetera eccetera ovviamente è presente anche l'aggregazione per la quantità di persone che mi visitano alle due del pomeriggio e perché no tutta una serie di plug-in che non fanno schifo sono validissimi molti sono già preabilitati tutti sono in licenza libera qualcuno è a pagamento per il semplice fatto che quando paghi poi ti danno l'assistenza però una volta che hai ottenuto questa copia è software libero puoi darla a chiunque anche rivenderla fare qualsiasi cosa a patto che se la modifichi rilasci le tue modifiche come software libero e arriviamo a quello che ci interessa Matomo fa una cosa che effettivamente altri non è verificabile che facciano se tu hai una tua Matomo e vai nelle impostazioni di Matomo e gli dici guarda fammi una seria anonimizzazione dei dati io non voglio che salvi nel database tutti gli indirizzi IP delle persone voglio che salvi solo i primi due blocchi di questa informazione in modo che sia difficilmente riconoscibile la precisa location di origine del mio visitatore qui in un click faccio questa cosa dal giorno dopo tutte le visite successive rispettano questa preferenza dal giorno dopo dal secondo dopo rispettano questa preferenza poi se sono una persona che smanetta un po' vado a interrogare il mio database e vedo effettivamente che non salva queste cose cioè proprio fisicamente questa informazione non raggiunge la tua base di dati quindi se ti bucassero il sito se ti bucassero Matomo comunque non accederebbero a queste informazioni questa cosa invece non è verificabile in nessun altro non è verificabile in Google Analytics perché ovviamente non è che posso andare da loro e aprire la porta del data center e guardare se queste informazioni le buttano veramente o se se le tengo perché è un servizio quindi delego a loro la gestione del servizio e mi fido e mi fido di tutto di quello che mi dicono nei termini d'uso e spero che sia tutto come dicono anche se in realtà non spero che sia tutto come dicono perché ci sono veramente tante informazioni raccolte che dicono di fare espressamente che forse sarebbe auspicabile che non facciano anche se lo dicono e dico ancora quest'altra piccola cosa che ovviamente agli amici del che hanno paura degli avvocati e che magari qualche persona vi scriva alla PEC e dica messaggi come buonasera ho visitato il vostro sito e vorrei che eliminaste tutti i miei dati entro domani grazie o vi mando l'avvocato ecco se ovviamente se ricevete una cosa del genere con altri strumenti è un po' un casino garantire che avete rimosso tutto qui invece fate un filtro su Matomo per utente o per quello che volete e poi rimuove tutti i dati del database e avete la prova che l'abbia fatto perché poi appunto ripeto andate a vedere il database e non c'è proprio niente faccio ancora questa piccola parentesi il bello del software libero è che anche se io non ho le capacità tecniche di vedere che effettivamente faccio quello che dice posso tranquillamente alzare la cornetta pagare uno sviluppatore software e dirgli guarda mi dici mi controlli questo codice per vedere se fa veramente questa cosa qui e lui è legalmente e tecnicamente incoraggiato a farlo questo è il bello del software libero mentre altri tipi di software non permettono né legalmente perché nei termini d'uso te lo vietano né tecnicamente perché minificano tutto quanto l'analisi di quello che sta avvenendo non possiamo non parlare di quest'altra funzionalità che è la possibilità di sapere le statistiche del sito senza dare un braccialetto a tutti quanti cioè come dire senza dare un cookie a tutti quanti perché ovviamente il fatto di dare un cookie ti permette di capire se il giorno dopo torna ed è sempre lui però ovviamente se volete risparmiarvi o di scrivere una cookie policy se volete risparmiarvi di mettere il banner con scritto accetto il cookie sì no se volete evitarvi una cosa del genere si può togliere Google Analytics e il giorno dopo perché no mettere Matomo con questa preferenza di sistema che è la modalità cookie less cioè lui raccoglie le statistiche su su chi vi visita ma non gli chiede di salvare nessun cookie e questa è la cosa banale però facciamolo molto comoda poter avere un sito senza risorse esterne senza necessità di un banner gigante che ti chiede vuoi cookie o meno perché voi non li date non avete cookie di terze parti e questo è molto bello ancora ripeto ci sono molte cose che uno può fare se ama la privacy ama la libertà digitale e odia gli avvocati odia non so finire in tribunale perché magari si scopre che non so sei il sindaco e ti dicono che hai tenuto per cinque anni Google Analytics e allora i cittadini ti fanno causa non so come dire il rischio che possano capitare certe cose è abbastanza elevato la soluzione è spesso abbastanza semplice invece quindi la soluzione è semplicemente se abbiamo Google Map valutare di scaricare proprio quel pezzo di mappa e metterlo nel sito localmente però piccolo inciso io legalmente non posso scaricare un pezzo di Google Map quindi in realtà quello che suggerisco è scaricato un pezzo di OpenStreetMap andate su OpenStreetMap.org cercate lo stesso pezzo di mappa e lo schiantate sul sito zero risorse esterne ne avete tolta una poi passo numero due uno può abbandonare Google Analytics e ebbè io metterò il punto qua potrebbe abbandonare Google Analytics poi se vuoi perché no ti metti Matomo al suo posto però cominciamo a togliere Google Analytics che non è male in senso iniziamo a togliere risorse esterne e soprattutto risorse esterne che fanno tracking degli utenti rimuoverle lato protezione dei dati personali proprio vi fanno i fuochi d'artificio nella nella sezione legale della vostra azienda se e altra piccola cosa io io capisco che queste cose siano un po dolorose perché le abbiamo fatte tutti queste cose cioè tutti abbiamo messo il Google Pixel scusate il Facebook Pixel nel sito per vedere quanti mettevano mi piace e quanti raggiungevano il nostro sito tutti abbiamo messo una Google Analytics nel sito tutti abbiamo messo un Google Font tutti abbiamo installato magari una WordPress che purtroppo di default ha il Google Font quindi comunque non è semplice abbandonare queste cose perché sono facilissime da mettere chiaramente ti abitui e poi toglierle è un casino ma chiaramente è più facile vivere in un universo in cui non ce le facevano conoscere chiaramente sono d'accordo con voi però noi siamo qui ci chiedono cosa possiamo fare per migliorare il web e la risposta è questa abbandonare o migrare o abbandonare e migrare non è male e un'altra cosa LibreJS che cos'è? LibreJS è un progetto molto molto di nicchia che però adoro e permette di far sì che quando visito un sito l'utente super smanettone che ama l'informatica ama le sue libertà digitali a pugno chiuso e pretende di avere tutto libero sul suo computer di non eseguire software proprietario non vuole eseguire sul suo computer il tracking di Google Analytics non vuole eseguire Facebook Pixel non vuole eseguire Google Map non vuole eseguire YouTube eccetera LibreJS è una è un tipo di diciamo modo di comunicare che il proprio sito non fa nulla di queste cose che il proprio sito ha solo software libero praticamente la maggior parte dei siti di default nascono con risorse interazioni piccole JavaScript che è tranquillamente rilasciabile cioè non è che ci succede niente se le persone si libera un file JavaScript quindi se io ho un sito in cui uso OpenStreetMap uso Leaflet uso librerie per le mappe libere uso jQuery uso altre librerie libere uso D3 per la creazione di documenti interattivi uso Matomo che è software libero se uno alla fine ha solo software libero può vedere come farsi diciamo certificare LibreJS e così nell'utente viene un bollino verde se uno ha il componente LibreJS installato per dire che il tuo sito rispetta le libertà digitali questa è una cosa super di nicchia che io la dico perché sono ovviamente interessato a promuovere il software libero nel web e questa secondo me è una cosa abbastanza poco importante nel mondo ma molto importante per me secondo me è veramente una cosa che ci permetterebbe di non so far sì che ci siano meno abusi o meno potenziali abusi nel senso che nel momento in cui milioni di siti web hanno miliardi di risorse esterne e di tre società vuol dire che in qualsiasi momento se una di queste tre cambia una riga di queste risorse ha può creare delle botnet globali cioè significa che può veramente decidere cosa i computer nel mondo effettuano e ci sono tutta una serie di squilibri di potere che sono evitabili dando ai nostri utenti dei nostri siti web un po' più di libertà a questo punto io vedo che è stata già fatta una domanda ringrazio Massimo che ci chiede cosa ne pensi del browser Brave io faccio un attimo una pausa e voglio dire questa cosa qua allora se uno vuole una navigazione completamente libera diciamo che quindi uno vuole un browser bello pulito bello libero senza le minime controversie i browser sono due Firefox e Chromium adesso non so chi conosce Chromium ma è praticamente Chrome ma con l'icona azzurra che in realtà nessuno sa che Chrome che usano un botto di gente in realtà si basa su Chromium che è la versione libera e da questi due Firefox e Chromium si sviluppano tutta una serie di altri browser che promuovono altre cose per esempio c'è chi è più interessato ad avere dei meccanismi per non so creare delle specie di criptovalute per cui visitando un sito più lo visito più in qualche modo genero una specie di revenue per chi ha quel sito ovviamente non è questo il tema della serata ma ci sono appunto browser Brave che qualcuno ha già sentito ha cercato di portare alcune funzionalità in Firefox che non erano predefinite in Firefox e non erano presenti in Chromium perché non si basa su Chromium io penso che sia software cioè è un software libero quindi lo consiglio però non è riconosciuto largamente dalla maggior parte delle comunità che si occupano di software libero per esempio se avete il vicino di casa con la Debian o Ubuntu vedrete che Brave non è facilmente installabile come altri programmi come Firefox o Chromium cioè non è nei repository di Ubuntu e non è nei repository di Debian perché appunto ci sono delle piccole controversie che non sono necessariamente così terrificanti però insomma io penso che i browser sono molto 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 rigido e penso che i browser siano due liberi siano due Firefox e Chromium tutto il resto io personalmente lo butto però le persone che lo usano usano effettivamente software libero ci sono ci sono state però dei momenti in cui alcune funzionalità anche appunto di questo browser e di qualsiasi altro browser per carità proprietario di questo specifico browser Brave erano diciamo un po' vabbè nello specifico Brave nasce anche per rimuovere dei codici di monitoraggio ma per un certo periodo non ne rimuoveva alcuni cioè espressamente avevano commentato la rimozione di alcuni codici di monitoraggio perché erano diciamo delle specie di di sponsor cioè erano o ufficialmente legate o meno comunque invito ad andarsi a vedere la questione di Brave con la whitelist non desiderata dell'eliminazione dei codici di monitoraggio per andarsi a scoprire un po' queste cose quindi non lo sconsiglio non lo consiglio consiglio Firefox di per sé però chiaramente adesso dare retta ai miei consigli è un po' borderline perché chiaramente adesso io sono una persona che sul mio telefono cellulare non ho un telefono Android ma non ho il Play Store cioè sono completamente senza Google e le applicazioni le scarico da FDroid non so se si vede ma è una piccola applicazione Android che permette di scaricare solo software libero funziona e ci sono tutte le applicazioni che mi servono se mi serve sincronizzare dei documenti uso la mia Nextcloud se mi serve leggere la posta c'è un cliente di posta se mi serve andare su YouTube senza codici di monitoraggio c'è Newpipe insomma anche nella vita personale uno può cercare di levare un po' di altra gente dalla tua vita privata e far sì che siano sempre insomma se uno vuole la libertà costa quindi un po' di fatica costa però per carità uno può provare a fare queste cose io ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e se per caso ci sono delle domande ancora questo è il momento adatto perché praticamente siamo lì all'ora di cena siamo tutti vogliamo alzarci e andare a mangiare quindi vogliamo condividere qualcosa last minute questo è il momento perfetto infatti dai vediamo se c'è qualcun altro che rompe il ghiaccio ecco vediamo un attimo un'altra domanda perfetto Luca dove hai visto? nelle domande sono qua ma l'ultimo è Massimo ah no eccolo ciao Luca allora Luca ci dice che lavori in una software house sui nostri siti abbiamo installato a tutti un account ma Tomo grandissimo non ho ancora avuto modo di approfondire ma il marketing manager ha dimostrato sempre una certa diffidenza verso lo strumento per mancanza di integrazione ecco 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 questo è veramente molto intelligente ringrazio Luca perché chiaramente uno strumento progettato per scollegarsi da Google ovviamente certe informazioni di design non te le darà te ne darà altre in più ma quindi chiaramente se Google è in grado di vedere gli spostamenti di sito in sito di ogni utente chiaramente ti sa dire cose tipo esattamente con che parola chiave l'utente arriva da Google a te per esempio perché Google è suo quindi hai messo l'utente arriva da Google poi atterra sul tuo sito c'è Google Analytics cioè è tutto suo quindi per forza per forza sa cosa succede quindi riconosco che effettivamente bisogna dire al marketing manager è vero che ovviamente certe cose non essendo Google non le sapremo cioè non però il vantaggio appunto è che non sono Google cioè è proprio uno degli svantaggi e anche a volte è il vantaggio quindi scusami Valerio il discorso conversioni tutto quello che serve al marketing manager quindi sai il remarketing retargeting così non può farlo giusto? adesso signore e signori in realtà io non faccio il marketing manager e non sono non lavoro in modo della comunicazione quindi mi sa che dobbiamo fare un talk per istruirmi su questa cosa però temo che temo di no potete avere ragione perché appunto lo strumento nasce per fornire per non fare tutto questo per fare un po' di meno sì esatto ok questa è la diffidenza del marketing manager quindi se uno piace cioè se uno ha un buon reparto di legale si fa una bella privacy policy una bella policy GDPR si gestisce tutte le risorse esterne le cita tutte per bene ed è a posto se uno invece vuole dormire bene la notte perché non ha fatto bene queste cose basta migrare a Matomo che molto spesso fornisce quello che serve a molte persone ok Luca ci ha risposto molto interessante ah ecco su questo colgo al balzo quello che ha detto Luca una cosa interessante di un software libero come Matomo è che se io avesse un sito molto strano che deve gestire eventi molto molto personalizzati in base al mio bisogno specifico che ne so voglio sapere esattamente quante persone oggi hanno messo il mouse su questo pulsante e poi se ne sono andati perché non gli piaceva proprio su quello lì non su altri proprio su quello ci posso fare tutta una serie di rilevazione di eventi personalizzati scatenati a piacere quindi se io ho tutto altro mio codice che fa altro e voglio mettere in mezzo la registrazione di un evento particolare ecco ma Tomo su questo è proprio un cavallo di battaglia fantastico perché permette di fare molto bene queste cose proprio essendo software libero è ampliabile a piacere sulla vostra infrastruttura per fare assolutamente questo tipo di cose che con altri strumenti invece sono molto complicate ottimo allora vediamo se c'è qualcun altro se c'è qualche altra domanda nel frattempo vi dico come sempre questa registrazione la trovate già da domani mattina con sia il link che Valerio ci ha dato prima non mi ricordo sulla PA giusto? sì adesso potrei scorrere un po' indietro così concludiamo con questa fantastica slide e poi troverete anche le slide di questa presentazione quindi da domani mattina andate sul canale YouTube e scaricate e mi raccomando registratevi ok perfetto vediamo se c'è qualcun altro condividere o lasciare guidi di approfondimento alla fine ma sì facciamo una cosa diamo tutte le informazioni che comunque magari ci siamo detti anche a voce e le inseriamo tutte nella descrizione del video di domani sì sì anche con la dovuta errata corrige perché avrò detto un sacco di cose sbagliate se mi riascolterò va bene dai allora detto questo ringrazio Valerio Bozzolan per questo webinar ringrazio tutti voi ci vediamo al prossimo giovedì ok buonasera grazie ancora per l'ospitalità e alla prossima posto di tornare libero ottimo ciao grazie Valerio ciao buonasera a tutti grazie a tutti